21 Dicembre Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. 1 Pietro 1, 18-19 Essere giusto sotto l'agnello Gesù è definito l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo messaggio è l'essenza del Vangelo. In virtù di questa verità possiamo affermare, io sotto l'agnello sono giusto. Se nascondo la mia vita sotto l'opera che Gesù compì sulla croce per me, sarò salvo. Cristo è l'agnello, senza difetto né macchia. Annunciato dalle Sacre Scritture. 1 Pietro 1, 19-21 Già al momento della sua uscita dall'Egitto, il popolo di Israele aveva offerto in ogni casa un agnello, figura di Cristo, sacrificato per la salvezza degli uomini. Il sangue posto sugli stipidi della porta proteggeva la famiglia risparmiando il figlio primogenito, mentre all'interno si mangiava l'agnello, segno che ci si appropriava del sacrificio. Quando il giudizio di Dio giunse, egli passò oltre laddove vedeva il sangue dell'agnello. Allo stesso modo, chiunque oggi crede in Cristo e si ripara sotto il suo sangue, avrà vita eterna. Caro lettore, non devi fare altro che credere e appropriarti di quello che Gesù ha fatto. Allo stesso modo, chiunque oggi crede in questo modo, chiunque oggi crede in questo modo.